Ciao a tutti quanti su NOW, bentornati in questo nuovo mese giugno tutti insieme e vi ho promesso di fare face gym, cioè la palestra per la nostra faccia. Siamo pronti allora per il primo esercizio, portiamo, immaginate come una, diciamo signora, la nostra nonna con la dentiere, ti ricordi quando aveva una dentiere, portavano le labbre inferiori e superiori indietro, ok, e cominciamo ad aprire e chiudere la nostra bocca. Per queste lunghette sulla labbra superiore, la codice a barra, dobbiamo fare la pesce palla, ok, chiudi, seri la bocca e gonfia proprio la parte superiore della bocca. Un altro esercizio meraviglioso sia per la parte inferiore del mento e per il collo è questo esercizio qua. Giriamo la nostra testa e cominciamo a sollevare poco a poco il mento, allunghiamo in avanti la nostra mascella e poi dall'altra parte. Un altro esercizio proprio per le ciglia e per la palpebra che si possono purtroppo perdere elasticità, perdere tono, andiamo a sollevare le nostre sopracciglie, provando di non creare ulteriori rughe e chiudiamo le palpebra con un pizzico di forza. E per finire oggi nel nostro allenamento, perché te lo dico? Perché vedrai con face gym, sembra che, non lo so, che qualcuno ti ha veramente preso a pugni il giorno seguente, perché i muscoli magari non sono state allenate da tanto tempo, l'acido lattico è da aspettarsi, domani potresti sentire dei doloretti sotto il mento, lungo la mascella, dappertutto. È normale, non vi preoccupare, vuol dire che vi siete allenati bene, che i vostri muscoli si sono attivati, così vi sto preparando. Ok, finiamo con l'ultimo che chiama proprio l'angolte della rana, ok, l'angolte della rana e stringiamo, portando in avanti il mento e proprio stringendo i muscoli del collo. Ciao!